Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun, alle 8.09, questo appunto è il Crystal History delle 8, ricordo che ogni ora noi appunto vi facciamo ascoltare una di quelle canzoni che ha fatto la storia della musica e questa è sicuramente una di quelle. L'augurio di fare la storia della musica la facciamo anche al nostro ospite che è qui con noi in studio, Alessandro Scalas, buongiorno Alessandro. Buongiorno, ciao a tutti. Ecco, allora, a chi ci sta seguendo in diretta video o chi si riguarderà il video podcast vedrà qualcosa di particolare, no non è un errore, non è che Ginevra si è appoggiata col gomito sul mixer, no, c'è un quadrato, diciamo una figura colorata davanti al tuo volto perché i colori saranno fondamentali nel racconto di questa mattinata, i colori e la tua musica. Alessandro, buongiorno di nuovo, perché dobbiamo fare per forza, non si può non fare questo binomio quando parliamo di te e della tua musica? Allora, il ruolo dei colori nella mia musica è protagonista, nel senso che per ogni canzone che scrivo io associo un colore tramite un processo percettivo scientifico che si chiama sinestesia. Sinestesia, ok. Sì, che è diventata poi negli anni anche una figura retorica e praticamente io quando metto le mani sul pianoforte o scrivo un testo di una canzone, sono stimolato dai suoni e dalle parole e in me viene suscitato appunto, si accende un colore e quindi da qui il connubio strettissimo tra la mia musica e i vari colori. Avviene solo con la musica o anche con altre? Avviene anche con i profumi, con il cibo, con la faccia di uno, vedi uno e dici, qual è un verde? Allora, qualche volta sì, però è strettamente legato ai suoni e alle parole, all'insieme di parole. Non solo la tua musica? Cioè in realtà se ti metti a suonare anche la musica di qualcun altro questo processo avviene comunque, giusto? Dipende, dipende. Qualche volta faccio fatica anche sulla mia musica, però viene facilmente con la musica che io produco. Perché appunto, però poi sono diventi così fondamentali i colori, perché a un certo punto hai appunto associato proprio ufficialmente le tue realizzazioni, le tue composizioni con dei colori e questi colori li hai mandati in giro. E' forte che hai una maglietta che ho scritto, scegli un colore da ascoltare, no? Sì, è il mio motto, all'ottine. Cosa hai voluto fare a un certo punto? Hai detto, non mi basta solo appunto mettere e dire, ok, questa canzone, tipo dopo ascolteremo Margot, no? Sì. Che è rosa. Rosa. Ok, che è rosa. Non ti basta dire, faccio la copertina dell'MP3 di Margot rosa. No, voglio fare di più, voglio invadere il mondo di colori. Sì, assolutamente sì. Volevo cercare di concretizzare l'astratto della musica e quindi renderlo proprio materiale, tangibile e ho creato dei bigliettini colorati, corrispettivamente del colore di ogni canzone che faccio e ho cercato di inserirli nei posti più disparati per cercare di farli arrivare alle persone, per farmi conoscere. Tu la musica da sempre, da quanto ho capito, l'hai suonata, senza mai però averla studiata, giusto? Non l'ho mai studiato. Com'è che ti sei trovato appunto a fare il musicista e com'è stata questa esperienza? Allora, è successo per caso, però sono stato facilitato perché avevo un pianoforte in casa, siccome mia mamma studiava musica e quindi da lì ho incominciato a mettere le mani sul pianoforte riproducendo le sigle dei cartoni animati. A orecchio. A orecchio, a orecchio. Quindi poi, vabbè, ho coltivato questa passione, questa predisposizione per poi trasformarla in qualcosa di più concreto. È quello che viene definito orecchio assoluto? Sì, orelativo assoluto. Comunque a me facilita tanto perché riesco a comporre senza avere mai studiato. Non so né leggere né scrivere la musica o un mio alfabeto che ho creato negli anni, criptato diciamo. L'ultimo che ricordavo che ha fatto così si chiamava Leonardo da Vinci, quindi aiuto. Interessante è poi questa cosa che insomma tua mamma studiava musica e casualmente, chissà se magari è stato qualcosa che quasi ti ha passato durante i suoi studi, è rimasto nel DNA, è rimasto nel passato. Geneticamente. Sarebbe da studiare. Le tue canzoni dove prendono ispirazione, da dove partono e dove vogliono arrivare anche da dire? Allora, le canzoni nascono da qualsiasi elemento della quotidianità. Io venendo per esempio stamattina qui a Milano, in zona San Siro, trago ispirazione da tutto. Da delle immagini che possono essere azioni di persone, agenti atmosferici, anche una pioggia può... Mi stai dicendo che troveremo una canzone ispirata questa mattinata? Può darsi, può darsi. Che onore, che onore. Voglio immaginare il colore che gli darai. Grigio oggi. Qui tutto viola, quindi non so, magari può influire. Prima mi dicevi una cosa che era interessante, che la sestesia ti porta anche però a, appunto, mentre suoni a pensare a un colore, ma è successo che magari suonando in alcuni locali, in alcune situazioni, le luci erano di un colore diverso e in realtà questa cosa ti disturba. E infatti, ultimamente, quando devo fare un live, comunque devo cantare dal vivo, ci mettiamo d'accordo con sia il fonico che quello delle luci per settare il colore giusto. Ovviamente i famosi bigliettini, poi torniamo sui bigliettini, bigliettini che potete trovare in giro per tutta Milano, ma non solo, tutta Italia, ma non solo, perché poi dopo vi raccontiamo come sono finti anche all'estero, anche nei tutti e cinque continenti, sono come quello che ho qui in mano, che appunto è di colore rosa, l'ho preso apposta perché la prossima canzone appunto sarà rosa, e che al suo interno, scritto a mano, tutto rigorosamente a mano, non c'è nessun QR code, non c'è niente, c'è un minutaggio, ad esempio 0.39, maggiormente sia 39 secondi, adesso metto in pausa il mondo e non sono più triste, 0.44 secondi, finisce. Alessandro Scalas, ricordati di guardare la luna. Tu hai la sinestesia, io mi sa che invece non vedo bene i colori, ho questa paura. Comunque adesso ce l'ascoltiamo appunto Alessandro Scalas con Margot. Alessandro Scalas è qui con noi. Ecco, allora Margot, rosa, giusto? Rosa. Ok, rosa. Questi colori, questi bigliettini, speriamo bene, tu ad un certo punto hai fatto questi bigliettini, li hai portati in giro, poi, come dire, hanno preso vita propria quasi, no? Sì, stanno camminando da soli ormai. Praticamente ho incominciato a metterli un po' per gioco, io sono della zona di Milano, quindi nelle zone limitrofe, e ormai siamo arrivati praticamente in tutti i cinque continenti, perché succede che soprattutto molti stranieri che sono qui in vacanza trovano il bigliettino, quindi mi chiedono se possono averne altri da portare nelle proprie nazioni, e quindi diciamo che si sta un po' a macchia d'olio spargendo questo fenomeno virale, possiamo chiamarlo così. Molto però analogico e mi piace, nonostante poi si facciano i riferimenti ovviamente al digitale, perché io, anzi, devo dire la verità, non mi ero accorto del contenuto proprio di come era fatto, avevo visto che c'era un pezzo di testo, ho visto che c'era il tuo nome, ma poi immaginavo il classico QR code che tutti ormai fanno, così in un secondo lo scannerizzo e mi ascolto, e invece no, tu hai semplicemente scritto, tra parentesi, ascolta su YouTube, listen on YouTube, e poi Alessandro Scallas è il nome della canzone. Anche questa è una scelta molto interessante. Sì, è una scelta mirata, nel senso che sono abbastanza contro la totale digitalizzazione, va bene fino a un certo punto, però secondo me bisogna un po' tornare indietro nel tempo, magari con un occhio sempre al futuro, e quindi ho cercato di fare qualcosa che viene definita da molti una sorta di avanguardia. Quindi ho cercato appunto questo collegamento al passato per fare qualcosa proprio sempre di tangibile, analogico, affinché la gente potesse leggere e scrivere quello che c'è scritto sul bigliettino per poi trovarmi. La cosa divertente è che poi appunto questi bigliettini sono ritornati da persone che poi sull'Instagram, sul tuo profilo Instagram, ti scrivono e ti chiedono quasi il permesso di poterlo portare in giro. Sì, mi chiedono il permesso, molti mi chiedono ma posso tenerlo, posso regalarlo, oppure l'ho trovato e l'ho messo da un'altra parte. E poi soprattutto io specifico sul bigliettino di andare su YouTube ad ascoltare la canzone, mentre ho notato che molte persone mi cercano poi sui social, quali Instagram o Facebook, e vogliono raccontarsi in privato. E' vero, qui non c'è nessuno, un'altra cosa, non c'è nessuno rimando al tuo Instagram ad esempio. Perché non me ne frega proprio niente. Cioè che in realtà, bella, taghi Instagram, fai una foto a questo bigliettino e taggami sui, cioè chiunque avrebbe fatto, forse anch'io avrei fatto così, che sono un boomer, avrei fatto invece niente. Però lo stanno facendo, lo stanno facendo senza che io lo dica. E non so se questo è un bene o un male, perché pensa come siamo ormai addicte da questa cosa, cioè ci viene spontaneo farla. Facciano loro quello che vogliono. Ecco, questo, perché non c'è una regola. Cioè tu, il bigliettino è lì, poi, veramente, fatene quello che volete. Assolutamente sì. Non costringo nessuno a prenderlo, io li lascio in giro, e poi la gente che sceglie se prenderlo o meno, io dico sempre che è il bigliettino che sceglie la persona, non il contrario. È il bigliettino che sceglie la persona? Sì. Ah, bene. Quali sono state le soddisfazioni che hai ricevuto da questo progetto in progresso, mi dovrebbe chiamare, perché appunto è un viaggio quasi. A me la cosa che viene in mente è l'essere qui oggi, perché grazie a tutto quello che sto facendo, grazie al passaparola delle persone, siamo qui. Le canzoni, il Colori, hai conosciuto altre persone che hanno appunto questa dote, se qualcuno si è già fatto sentire, perché poi sto già solo anche quello, del non sentirsi mai unici o soli. In altri campi artistici, non nella musica, non così prepotentemente nella musica. Insomma, ripeto appunto, un progetto molto molto interessante che appunto vi invito ad andare a seguire, lo possiamo dire comunque il tuo Instagram o facciamo finta di niente? Sì, mi trovate ovunque come Alessandro Scalas, nome e cognome. Non c'è neanche, non so, Scalas Music, Scalacolor, no, Scala, niente. Scalas di colori. Questa è carina. Questa è carina. La segno. Eh, questa segniamocela. Andiamo invece con un po' di musica. Stiamo parlando di Alan Sorrenti, Fili delle Stelle, che insomma è qui, non è se faccio trovare un colore a questa qua. Giallo. Giallo, bam, così. Sì, è gialla questa canzone. È gialla questa canzone. Bene, se lo dice Alessandro, insomma, dovete fidarvi, e quello è che poi, oh, eh, i colori sono fondamentali. Pensate quanto una città senza colori sarebbe ancora più grigia di quello che spesso e volentieri è poi. Fili delle Stelle, Alan Sorrenti, giallo abbiamo detto. E questa è una suggestione del colore che ci dà Alessandro Scalas, che appunto, dicevamo, sul suo profilo Instagram, in questo momento appunto ha messo tutti e dodici colori, perché, cosa mi hai detto fuori onda che un attimo mi ha fatto trassalire, che le note sono... Le note sono dodici, non sono sette. Ma come? Tutti pensavamo fossero sette le note, invece oggi diciamo che sono dodici. Perché? Perché consideriamo solo i tasti bianchi del pianoforte. Cioè, do, re, mi, fa, so, lassi. Sì. E poi ci sono i cinque tasti neri. Ah. Effettivamente sono dodici. Il mi diesis? No, cos'è? Il mi diesis e bemolle. Poi non so neanche io tantissimo, so usarla, ma non so poi nomenclare. Questa cosa è bellissima che la sai usare. E quindi ci sono appunto i dodici colori che sono, vado, li dico io, prima che ti dimentichi qualcuno, lì sai tutte le memorie. Non vi dico, allora, rosso, azzurro, giallo, fucsia, arancione, verde, viola, bianco, blu, rosa, marrone e grigio. Cioè, tranne uno che ha invertito, hai detto in ordine di tutti gli altri. Vabbè, ma perché c'è un ordine cromatico? No. Perché stavo pensando all'ordine delle canzoni di pubblicazione. Ah, vedi, ecco perché. E infatti sì, effettivamente, c'è lo stesso ordine di pubblicazione delle canzoni. Più canzoni, però, possono avere lo stesso colore, giusto? Assolutamente, sì. Ah, ecco. E a quel punto, poi, uno scopre tutto il tuo mondo. Mondo fatto di colore, mondo fatto di musica, produrrai altre canzoni. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Adesso sono uscite le prime dodici, quindi io dico che è finito il primo arcobaleno. Ci saranno più arcobaleni, ovvero più slot da dodici canzoni colorate che usciranno. Quante canzoni hai già scritto, più o meno, nella tua colorata carriera? Scusami, non gioco le parole, però non ci stavo. Penso di essere arrivato al migliaio. E la miseria? Scusami, non sono stato spontaneo. Se non siamo a mille, poco meno. Però, 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 insomma, direi che ti voglio augurare tanta fortuna per questo tuo progetto. Grazie. Ricordiamo tutti i contatti e poi salutiamo Alessandro. Allora, i tuoi contatti, dai, Instagram? Alessandro Scalas. Ok, YouTube? Alessandro Scalas. Facebook? Alessandro Scalas. LinkedIn? Non ce l'abbiamo. Non esiste. Tinder? Non so, qualcuno che magari vuole... Niente, niente. Niente. Va bene. Alessandro, grazie mille davvero. Speriamo di trovare i tuoi biglietti. A questo punto io andrò sempre in giro, sempre a guardare. Ho visto quelli incastrati nella metropolitana che sono bellissimi. Quindi io voglio trovare prima o poi uno di quelli, va bene? Ok. Alessandro Scalas, la sua musica e i suoi colori, cercatela su YouTube. Davvero, grazie mille Alessandro e complimenti per il tuo progetto. Grazie. Andiamo avanti con la musica e poi torniamo qui subito dopo ancora con la chiusura e le ultime cartucce colorate di questa mattina.